Non è il caso di andare a Randaccio per la nostra visita telecamere a seguito, che normalmente conclude la nostra attività della prima metà dell'anno. Il luogo avrebbe richiesto libertà di movimento maggiori di quelle che abbiamo oggi. La rimandiamo anche per godarcela meglio. Stiamo studiando qualche alternativa più praticabile. Speriamo sia reale e non smart, perché così potrebbero essere coinvolti anche quelli di noi che con il virtuale non vanno molto d'accordo. È ovvio che si tenti un ritorno alla normalità. D'altro canto, i mezzi tecnici di cui ormai abbiamo appreso qualche segreto e di cui oggi si dispone, ci hanno consentito in qualche modo di portare avanti ben nove serate. Alla fine non ci rimane che raccomandarvi di stare all'alta, perché il futuro potrebbe riservare sempre qualche piacevole sorpresa. Ciao a tutti!